Sbarchi senza sosta a Pozzallo. Nel tardo pomeriggio di martedì sono arrivati altri 497 migranti, tutti giovani eritrei e somali, nel gruppo anche donne e bambini e il centro di prima accoglienza e al collasso. Emergenza lavoro, incontro degli ex sussidiati del comune di Ragusa alla CGL, su cantieri di servizio e bambi lavoro il sindacato incalza l'amministrazione. I giovani e il volontariato, incontro al Galileo Ferraris con gli operatori del centro Risvegli Ibleo, le testimonianze di sofferenze e di solidarietà hanno appassionato gli studenti. Sono arrivati nel tardo pomeriggio di ieri 497 migranti, in prevalenza eritrei e somali, ad accoglierli al porto di Pozzallo gli uomini della Capitaneria delle Forze dell'Ordine, oltre al personale della Protezione Civile. Sul posto anche il personale medico. I migranti sono arrivati a bordo di imbarcazioni nelle quali erano stati trasbordati dopo essere stati avvistati nel pomeriggio di lunedì. Le navi della Marina Militare avevano soccorso tre natanti in difficoltà provenienti dalle coste del Nord Africa, avvistati dall'elicottero della fregata maestrale e da un mezzo aereo dell'Auronatica Militare. Le persone tratti in salvo complessivamente sono 497. Nel porto Pozzallese è arrivato prima il pattugliatore sirio con a bordo 196 persone, 181 gli uomini, 8 donne e 10 minori. Subito dopo è attraccata la fregata Euro con a bordo 301 persone, 229 uomini, 65 donne e 6 minori. Tre donne in gravidanza sono state ricoverate all'ospedale di Modica. Quattro uomini e un minore sono stati portati invece in ospedale a Ragusa per accertamenti, ma le condizioni di salute sono buone. Al momento dello sbarco a Pozzallo c'erano circa 120 migranti che sono stati trasferiti con un volo charter a Catania. I nuovi arrivati invece sono stati sistemati in parte nei locali della Dogana. In 150 invece verranno trasferiti in pullman al centro di Agrigento. Al centro di Pozzallo al momento ci sono circa 350 migranti. Una macchina organizzativa ben collaudata per fronteggiare l'ennesimo sbarco sulle coste del Ragusano. Questa volta però i numeri dell'emergenza sono imponenti. 497 migranti sbarcati sul molo commerciale del porto di Pozzallo. Ad attenderli gli uomini della guardia costiera, della finanza, della polizia di Stato e dei carabinieri. Le associazioni di volontariato con l'ausilio dei medici senza frontiere hanno allestito una tenda da campo sulla banchina del porto per approntare le prime cure. Poi gli uomini con la divisa gialla e rossa, i volontari, uomini e donne delle associazioni, Alfa di Chiaramonte, il gruppo Caruano di Vittoria, la protezione civile di Pozzallo e Ispica, le misericordie di Modica, i vigili del fuga europei, il gruppo Arma, l'AVS di Santa Croce e Camerina, i medici dell'Asp per prestare soccorso e assistenza medica ai migranti. Non ci sono state condizioni di criticità tipo medico, per cui le donne gravide sono state inviate, come da protocollo all'ospedale di Modica, il controllo. Allora, Sindaco Ammatuno, l'ennesima emergenza per il litorale ragusano, come sempre, Pozzallo in prima linea? Sì, ieri abbiamo avuto uno sbarco di 500 persone e quindi abbiamo dovuto accoglierli al centro di prima accoglienza. Per fortuna i 240 che erano già al centro di prima accoglienza sono stati trasferiti e poi in serata altri 150 siamo riusciti a farli partire, quindi abbiamo una presenza di 350 unità al centro che riusciamo a gestire bene perché ormai il sistema è rodato e quindi abbiamo la possibilità di poterli ospitare nel migliore dei modi possibili. So che fra qualche ora arriveranno altri 300 e quindi c'è la possibilità, mi pare, che la prefettura abbia trovato la sistemazione per altre 300 persone, quindi sicuramente ne partiranno e ne arriveranno. Quindi non ci sono particolarmente problemi, non ci sono presenze in città, tranne qualcuno che forse è scappato perché si rifiutava di essere identificato, però tutto sommato la situazione è sotto controllo. Sindaco, comunque un'emergenza senza fine? Sì, sicuramente sì. Ora con il bel tempo chissà quante persone arriveranno. quindi dobbiamo prepararci al peggio. Mi sto regando dal prefetto perché c'è una riunione operativa per cercare di mettere a punto un po' la situazione, per trovare altre sistemazioni. Ieri abbiamo dovuto montare quattro tende davanti al centro di prima accoglienza per tutte le evenienze, quindi ci dobbiamo preparare al peggio perché come diceva il Ministro Alfano, pare che dall'altra parte ci siano 600 mila persone che vogliono partire, quindi sarà un esodo e noi dobbiamo essere preparati e pronti per poterli ricevere. Una piattaforma per il lavoro è contro il disagio sociale. La Camera del Lavoro chiede risposte immediate in merito ai cantieri di servizio e al bando lavoro. Giovedì in Consiglio Comunale confronto con i capigruppo consigliari. Noi abbiamo rilanciato questa piattaforma per il lavoro, per l'occupazione contro il disagio sociale che riguarda una piattaforma incentrata su tre questioni in particolare. La questione dei cantieri di lavoro che per molti versi sono ancora bloccati da parte della regione, non solo nella città di Ragusa ma anche in provincia e in tutta la Sicilia e che darebbero come prima risposta a circa 250 disoccupati una possibilità di lavoro e di reddito. La seconda questione riguarda il famoso bando lavoro. È da oltre un anno che si è chiusa la possibilità di un protocollo d'intesa su questa questione, ma abbiamo visto che con lungaggine amministrative, con situazioni burocratiche non più accettabili, con ritardi sempre più pesanti, questo bando lavoro non parte e di conseguenza altri 25-30 lavoratori non possono avere quella possibilità di avere un servizio in termini di reddito lavoro e nello stesso tempo dare un servizio alla città, visto che sono chiamate a custodire le ville comunali, i servizi igienici e così via, anche in relazione alla nuova stagione turistica che si preannuncia già di fatto iniziata. E la terza questione riguarda tutto il welfare locale in relazione al fatto che noi non siamo per i sussidi a pioggia, non siamo per questo tipo di elargizione quasi al limite delle lemosie, se non vera e propria lemosnia, siamo perché questi fondi, che attualmente ancora una volta vengono dati elargiti a pioggia, siano destinati a servizi effettivi, efficaci, che possono creare le condizioni di un rapporto di lavoro stabile, anche se a tempo determinato, ma che possono avere una possibilità di regolarizzazione retributiva e contributiva per il lavoratore e nel momento in cui i lavoratori, questi indigenti, questi disoccupati hanno questa possibilità acquisiscono anche il diritto agli ammortizzatori sociali. Ecco, su tutte queste tre questioni fondamentali, bando lavoro, cantieri di servizio e ristrutturazione del welfare locale per quanto riguarda i sussidi e così via, noi pensiamo che si possa aprire una stagione di concertazione e di trattativa. E la novità, la notizia è che dopo l'iniziativa che abbiamo fatto martedì scorso, giovedì scorso, davanti ai servizi sociali, l'assemblea che abbiamo tenuto per fare il punto della situazione alla Camera del Lavoro in data odierna, noi abbiamo già la possibilità di essere presenti nella convocazione del Consiglio Comunale di giovedì prossimo perché siamo convinti che la voce alta nostra, del sindacato, dei disoccupati che si organizzano si faccia effettivamente sentire. E quindi noi queste questioni, questa piattaforma, queste rivendicazioni li portiamo all'attenzione non solo dell'amministrazione comunale ma dell'intero Consiglio Comunale a partire dai capiclupi consigliari e sulla base di questo reclamiamo risposte immediate e certe perché il bisogno è diventato disagio, il disagio è diventato dolore sociale e certamente una risposta in quel senso, la pretendiamo. Ci si prepara al meglio alla stagione estiva sul litorale di Santa Croce con un intervento di pulizia e di bonifica delle spiagge e delle strade. L'amministrazione comunale con l'assessorata all'ecologia e all'ambiente ha predisposto un servizio capillare di bonifica del litorale da Punta Braccetto fino a Casuzze. Le spiagge del litorale saranno ripulite con l'utilizzo del personale e del mezzo Pulisci Spiaggia. Abbiamo voluto programmare con largo anticipo un intervento capillare per prepararci al meglio alle prossime festività di Pasqua e al ponte del 25 aprile, spiega l'assessore all'ecologia e all'ambiente Gian Salvalu. Il comune di Santa Croce, uno dei pochi in Sicilia, ha predisposto servizi di pulizia per offrire ai visitatori vacanzieri un ottimo biglietto da visita. L'assessore invita i cittadini a non deturpare l'ambiente e a depositare i rifiuti negli appositi cassonetti. I rifiuti ingombranti potranno essere ritirati fino a domicilio a costo zero per i cittadini, dice l'assessore. Si potrà richiedere il ritiro dei rifiuti telefonando ai numeri 0932 91 41 08 oppure 0932 91 41 18 oppure si potranno depositare presso l'area di sosta temporanea per la raccolta differenziata di contrada pezza adiacente al deposito comunale. La raccolta differenziata poi sarà incentivata. I cittadini saranno messi a conoscenza del calendario della raccolta porta a porta attraverso dei Debleanne. Abbiamo voluto avviare una nuova campagna informativa. Da qualche anno il comune aveva già avviato la differenziata ma attraverso questa nuova iniziativa si vuole sensibilizzare maggiormente la cittadinanza sull'importanza di questo gesto. Il corso sul tema Le fonti orali per la storia contemporanea è indirizzata ai docenti e la scuola sta coinvolgendo numerosi cittadini. Su iniziativa dell'archivo di Deble e la collaborazione di altri soggetti presso l'auditorium e Gian Battista Cartia della Camera di Commercio si è racconti e memorie. Con la collaborazione dell'associazione Teatro Club e Salvi d'Albergo la relazione del professore Giovanni Contini, presidente dell'Aiso, l'associazione italiana di storia orale. L'incontro si è incentrato in particolare sulla condizione della donna nel territorio e ha visto anche un momento iniziale durante il quale due giovani attrici dell'associazione Servi e Padroni, Cristiana Gennare e Giuseppina Vivera, hanno letto pagine di un lungo e affascinante racconto autobiografico. Rusida, di una donna di Scicli, mentre è stato presentato un audiovisivo che è stato curato per l'occasione da Chiara Ottaviano, anima del progetto con la Clio Media Officina. Dopo la relazione del professore Cosentini l'incontro si è concluso con alcuni interventi programmati, tra i quali quello di Marcella Burderi, Salvatore Licitra e Ciscio Schembari, finalizzata ad aggiungere ulteriori testimonianze in materia ma tesi anche a sollecitare l'arricchimento di questo straordinario patrimonio di testimonianze, di documentazione e di esperienze che il progetto dell'archivio degli Iblei intende attuare. Un confronto sui temi del volontariato e sulle iniziative del Centro Risvegli Ibleo, grande partecipazione degli studenti delle quarte e quinte classi dell'Istituto Ferraris di Ragusa che hanno voluto ascoltare la testimonianza degli operatori del Centro Risvegli. È partita questa iniziativa di tutti questi ragazzi che noi non ci aspettavamo mai di una scuola così importante e queste ragazze così importanti. Come lei sta vedendo c'è la sala piena e poi di quello che hanno tutti preparato facendo tutto per questo Centro Risvegli. Proprio ci hanno colpito perché queste cose sono il domani per loro, perché tutte queste situazioni che sono successe, degli incidenti, di tante altre cose, veramente ci ha colpito e noi siamo lieti di essere vicino a queste ragazze. Sono una cosa veramente importante. Il Centro Risvegli è obbligato, proprio obbligato con tutti questi ragazzi perché sono fantastici. Non mi era mai successo di un incontro così, veramente. Non posso dire altro sia alla preside, sia al docente, sia a queste ragazze perché veramente ci hanno colpito, proprio ci hanno colpito. perché non è che solo si sono impegnati a questa riunione, a questo incontro con me e tutte le istituzioni. Si sono proprio loro stessi voluti mettersi in prima fila perché per noi non sono io ormai, ma sono loro il domani perché il Centro Risvegli ha bisogno di domani. Fino a oggi l'abbiamo portato dove l'abbiamo portato, ma domani ci sono loro perché oggi il Centro Risvegli è una realtà, una pura realtà. Non è altro che abbiamo già 12-13 pazienti. Noi siamo dei volontari e siamo appoggiati alla swap del Giambattisto Tierna come volontari. Abbiamo dei volontari. Ci sono sei medici che lavorano, fanno servizio di ospedale, tutti dal Centro Risvegli. Vi dico pure una grande notizia che il Centro Risvegli a giorno vi darà una comunicazione di quello che stiamo facendo sia per l'ospedale Giambattisto Tierna, per il reparto e sia per i medici del Centro Risvegli che è una cosa bellissima. Tre categorie in concorso con 80 partecipanti. Il concorso Il Presepe negli Iblei, voluto dalla provincia regionale, suscita grande interesse nel territorio ragusano. Alla sala conferenza della provincia, alla presenza del commissario straordinario e del vescovo Paolo Urso, la cerimonia di premiazione. Il popolare concorso, giunto quest'anno alla sua 33esima edizione, intende premiare i presepi che si richiamano alla tradizione risalente a San Francesco, realizzata in provincia di Ragusa. Sono state tre le categorie del concorso, una riservata ai privati, una per le comunità scolastiche ed infine quella dedicata ai presepe realizzati all'interno di comunità religiose oppure istituzioni pubbliche. Come vedete sono in mezzo ai fanciulli della compagnia Godot di quest'anno, è il corso junior dei laboratori che conduciamo dai sei anni a questa parte, ci sono quelli adulti che ci seguono da tanti anni, ci sono quelli più piccoli, quelli che per la prima volta affronteranno il palcoscenico e quest'anno abbiamo scelto uno dei testi forse più belli ma più complicati della storia del teatro e della letteratura mondiali. Stiamo parlando dell'autore degli autori, cioè di William Shakespeare e il testo è Sogno di una notte di mezz'estate. Qui ci sono tutti i protagonisti, non tutti, qualcuno manca perché è periodo di febbri eccetera, di influenze, ma abbiamo Fatine, abbiamo Titania, abbiamo Oberon, abbiamo Bottom, abbiamo gli innamorati e tra gli innamorati abbiamo la nostra piccola Doriana Nobile. Perché dico questo nome invece di tutti gli altri? Perché come sapete noi ogni anno organizziamo degli stage, l'anno scorso con la grande Elisabetta Pozzi, quest'anno l'abbiamo organizzato con Enrico Guarneri che ha fatto uno stage dal 29 al 31 gennaio qui nella nostra sede, poi si è concluso con la lezione spettacolo con tutti gli allievi sulla comicità. Tra gli allievi c'era anche la nostra Doriana Nobile, ecco perché l'ho citata, dei piccoli, c'era Chiara Leggio e Giuseppe Arezzi e Doriana. Enrico era la prima volta che faceva uno stage, l'ha fatto per noi e siamo contenti di questo e tra gli allievi appunto siccome lui sta preparando, anzi ha debuttato già, e l'abbiamo visto molto bello, lo spettacolo Il malato immaginario di Molière e gli serviva, come capita spesso in questi casi a teatro, gli serviva la figlia piccola di Argante, ha visto Doriana non solo per la sua età ma anche per la sua bravura e ci ha chiesto se poteva inserirla nello spettacolo. Siamo onoratissimi di questo perché vuol dire che i nostri insegnamenti fruttano qualche cosa. Adesso passo la parola a Doriana, ci vorrà dire qualcosa su questa bellissima esperienza. Dunque ho iniziato tutto attraverso uno stage con Enrico Guarneri, ero contentissima, insomma però io non mi ritenevo molto comica, perciò non volevo partecipare, ma grazie a Federica Vittorio mi sono convinta, perciò ho recitato con Enrico a Catania e Messina, con questo spettacolo Il malato immaginario da Molière, ritratto poi da Turi Ferro e come regia c'era Guglielmo Ferro. È stata un'esperienza fantastica anche perché recitare comunque con persone di un certo valore, di un certo livello è stato molto duro ed impegnativo. Ci rivediamo a giugno perché sarà nella prima settimana di giugno che noi debutteremo con Sogno di una notte di mezz'estate di Shakespeare e poi con lo spettacolo degli adulti invece nella settimana seguente. Vi voglio ricordare che il 23 maggio a Ibla, alla San Vincenzo Ferreri, avremo ospite l'ultimo appuntamento di palchi diversi, il grande Mimmo Cuticchio, quindi chiuderemo in bellezza.